La sorpresa alle spalle mentre era in compagnia del suo attuale fidanzato, poi l'ha ferrata per il collo e le ha sferrato più di venti coltellate, massacrandola senza pietà. Questa la raccaprecciante ricostruzione dell'omicidio di Sonia Di Maggio, la 29enne riminese uccisa ieri sera in strada a Minervino di Lecce. Il colpevole ha un volto e un nome, Salvatore Carfor, a 39 anni, originario di Torre Annunziata ed ex compagno della vittima. I poliziotti lo hanno fermato la notte scorsa a Otranto mentre cercava di raggiungere un mezzo, probabilmente un autobus, con il quale allontanarsi dal Salento. Interrogato a lungo in commissariato, l'uomo questa mattina ha ammesso le proprie responsabilità davanti al PM Alberto Santa Caterina. A raccontare i poliziotti i dettagli sull'accaduto è stato l'attuale fidanzato della ragazza uccisa, testimone dell'orrendo delitto e anche lui aggredito. Si è messo a urlare per cercare aiuto, ma quando è arrivato qualcuno, il killer era già scappato e per la 29enne non c'era più nulla da fare. La giovane è morta tra le sue braccia. In base a quanto scoperto dagli inquirenti, l'assassino, un parcheggiatore abusivo senza fissa dimora, era uscito il 19 giugno scorso dall'ospedale psichiatrico giudiziario Filippio Saporito di Aversa, dove era stato rinchiuso per aver ferito a coltellate un altro parcheggiatore abusivo durante una lite. Quando i poliziotti lo hanno bloccato questa mattina, dopo una notte di ricerche, l'uomo aveva ancora addosso gli indumenti e lo zaino che indossava al momento del delitto. Una tragedia annunciata a quanto pare. Secondo le testimonianze di familiari e amici della vittima, il 39enne in passato aveva già amminacciato la ex fidanzata, promettendole di compiere una strage. Alla fine, purtroppo, è riuscito a mantenere quella terribile promessa.